Quattro! Ci serve una foto in fretta, Teddy? Mmm... Coraggio, forza! Ma insomma! Ah, finalmente! Bene? Ok? Ah! Bene? Oh, ecco qua! Oh, no! Non è possibile! Oh, no! No! Potrebbe... C'è l'erbolina! Dobbiamo restare concentrati sul premio! La mitica maglietta misteriosa che vinci se fai la foto con tutte le mascotte Ti distrai ogni anno e non riusciamo mai a farci la foto con l'ultima Gwen, parli con uno che diventa un alieno veloce come un fulmine La velocità della luce non accorcia le file per le foto Pretzel Pete! Io ho fame! Tyron, il T-Rex del Far West Città del cappello! Elvis Fante! Cowboy! Ci rimane soltanto Yawke? Chi è Yawke? Non hai letto il dépliant turistico di mascotte? È un adorabile orso gigante Oh, tutto bene? Dobbiamo farci una foto con Yawke Sono spiacente, questo bestione è a nanna Scusa, non puoi togliere il telone? Oh no, è fondamentale coprire Yawke prima che arrivi il tramonto Così non prenderà vita e non mangerà nessuno Davvero? Certo che no, mio padre lo dice ai turisti Così andiamo a foodsi Grazie a tutti.